Per la ventesima settimana della lingua italiana nel mondo, la Comunità Italiana di Barcellona ha contribuito coinvolgendo i connazionali residenti nella città Condal in una iniziativa promossa dalla Lista Italia del Comites di Barcellona insieme alla Casa degli Italiani della città. Nello specifico si è dato inizio a una raccolta di libri in lingua italiana con l'obiettivo di promuovere la lettura nella nostra bellissima lingua e dotare il vice consolato onorario di Ibiza e Formentera di una piccola biblioteca in favore dei nostri connazionali residenti nelle isole Baleari. Ascoltiamo Alessio Cusin, consigliere del Comites di Barcellona. Ciao a tutti, sono Alessio Cusin, consigliere del Comites di Barcellona, ovvero il Comitato Italiano dell'Estero. Oggi mi trovo qui alla Casa degli Italiani in quanto diamo inizio a una iniziativa che si concretizza dopo aver tenuto una riunione quest'estate con il vice consolato onorario di Ibiza e Formentera, ovvero noi di Lista Italia, del Comites, appoggiati dallo staff della Casa degli Italiani, stiamo raccogliendo dei libri in italiano per poter dotare il vice consolato onorario di Ibiza e Formentera, secondo le loro necessità, di una piccola biblioteca. Pertanto durante un mese, da metà ottobre a metà novembre, in orari d'ufficio, la Casa degli Italiani è aperta a raccogliere libri in italiano che volete donare. Vi aspettiamo pertanto numerosi con un libro qui alla Casa degli Italiani. Un saluto a tutti e un abbraccio. Ciao.